Il Parlamento europeo ha votato a favore dell'inserimento dell'interruzione di gravidanza nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La proposta è stata approvata con 336 voti favorevoli e 163 contrari ed è sostenuta soprattutto da deputati di sinistra e centristi. Il voto è in gran parte simbolico. La risoluzione non è vincolante e richiederebbe l'appoggio di tutti i 27 stati membri per essere inclusa nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione. L'aborto rimane fortemente limitato in alcuni paesi che probabilmente porrebbero il veto agli sforzi per dichiararlo un diritto. L'aborto rimane fortemente limitato alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.